Questo video è stato premiato perché abbiamo colto una novità nella pubblica amministrazione. A Milano abbiamo creato la rete dei comunicatori dei 10 ospedali pubblici di Milano. Finalmente lavoriamo insieme tutti e 10 gli ospedali pubblici di Milano, comunichiamo insieme ai cittadini milanesi e diamo una comunicazione uniforme, moderna, nuova, fatta di sentimenti e di emozioni. Siamo contenti, sono anche emozionato, però ci sprona questo riconoscimento ad andare avanti e davvero comunicare insieme perché questo è il segreto, lavorare insieme da adesso fino all'Expo 2015 che ci impegnerà notevolmente. Grazie